Raccolta ed analisi approfondita dei dati sui flussi turistici in stretto raccordo con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo per individuare il target di riferimento ed avviare azioni mirate di marketing territoriale. E la sfida lanciata dal neoassessore al turismo Giorgio D'Ignazio, che a tre settimane dal suo insediamento a pescare nel corso di una conferenza stampa ha voluto rivelare ai giornalisti le strategie legate al nuovo corso. Senza il supporto dei dati analitici sul numero delle persone che vengono in vacanza in Abruzzo e sulle loro specifiche preferenze, ha detto D'Ignazio, non è ipotizzabile pensare di mettere in piedi strategie vincenti che ci consentano di recuperare terreno.